La fine del 2021 ha portato notizie importanti per il comune di Pianella. Infatti è stato ammesso alla fase 2 della selezione il progetto PNRR da 36 milioni di euro per un ecosistema dell'innovazione. Un lavoro complesso che ha visto l'amministrazione comunale interagire con il capofila, il Dipartimento di Architettura dell'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara e con partner privati altamente qualificati da tutta Italia, così da portare all'attenzione dell'Agenzia per la coesione un ambizioso quanto innovativo progetto. I lavori riguarderebbero interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi per l'innovazione. Il sito individuato dall'amministrazione guidata dal sindaco Sandro Marinelli è quella dell'area sita in un contesto urbano marginalizzato, quale quella dell'ex salumificio di Leonardo. Il sito abbandonato che presenta numerose criticità è un'opportunità infrastrutturale che ambisce all'ecosostenibilità totale tramite il recupero integrale dei materiali da demolizioni riciclabili, all'autosufficienza energetica, all'armonizzazione dei materiali e forme con l'ambiente circostante. È chiaro che adesso la fase progettuale, quella di dettaglio, è fondamentale per definire nello specifico i parametri. Quello che l'idea di fondo è appunto un cambiamento epocale. È chiaro che avere in un territorio come il nostro un centro di questa natura ne comporterebbe una proiezione futura enorme, perché l'indotto cambierebbe completamente a cominciare dall'afflusso di ricercatori, studenti, imprese che vengono a formare i loro manager di punta. Quindi è chiaro che si apre una prospettiva della quale Pianella potrà evidentemente beneficiare in maniera considerevole, ma l'intera regione Abruzzo e anche le regioni limitrofe potrebbero trovare in questa struttura un punto di riferimento per il futuro.